il ponte dell'infamia allora il generale lì sparerà questa palla dorata che va catturata dal concorrente che poi deve arrivare dall'altra parte del percorso senza essere colpito dalle palle invece degli sgherdi Takeshi ma può essere colpito, basta che non cade hai ragione, hai ragione, ho detto una stupidaggine può essere colpito, l'importante è che non cada ha molta paura e strilla anche a sproposita visto che le palle ancora non arrivano no, ma sta morendo, secondo me gli viene un infarto prima di arrivare dall'altra parte e poi non si muove è granitica è granitica ma se non si muove è granito mica si muove ho capito, continua a prendere pallate non la vedo male la vedo male è infatti è niente piangono, piangono addirittura dalla felicità per averla abbattuta eccola di nuovo no, è un'altra questa è un'altra è un'altra, sì sì ecco 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 ha le movenze di un bradipo questa ragazza sai perché adesso in questo momento si annoia lei sai perché? perché quella è una palla che matto che sei cioè era un gioco di parole sul fatto una palla però una palla ottima sta andando piano piano riesce a a una strana a uno strano taglio di capelli a queste trecce veramente siamo due carciofi ed è stata accentrata queste trecce a carciofo che si che poi spostano l'equilibrio quindi eh sì ecco di nuovo le trecette vanno forte comunque in Giappone queste almeno sono un po' più normali è un'altra questa è un'altra sì sì hai il vedi il magliancino verde ecco fatto ho trovato la sua posizione d'equilibrio ed ora dice pronta per ricevere la tua palla adesso via subito è lì mobilizzata con questo ghigno che fa? che fa? cosa fa? non prega la palla ma che sta facendo? che fa? niente è in preda al terrore fa delle cose senza senso no girarsi ecco questa spero che sia il replay che vedremo dopo perché veramente bella pezza ecco la no no questa è un'altra questa è un'altra le riconosci dal dal maglione Greg perché c'erano maglioni diversi questa è bianco la di prima era verde poi quella prima ancora era rosso quindi non ti puoi sbagliare ecco presa lei è sprezzante quindi non fa vedi guarda guarda che sguardo ma chi sprezza si sfida eh niente sfidate bene beh devo dire che non è facile non è facile questo è uno dei giochi più difficili forse e dirlo allora dai questa è un'altra comunque Greg se devi dirlo anche questa le trecette un po' a carciofo però il fisico da ballerina eh sì eh e questa è una delle poche giapponesi chiatte un po' buzzicone stiamo dando replay? no no questa qua è proprio una nuova concorrente c'è un fisico un po' da un po' da matrona romana un po' buzzica solitamente invece sono molto longiline anche la matrioska quella più grande sì tutte le altre eccola dai comunque non hai detto che questo è un gioco che stavolta è un po' tosto no dicevo è tosto eh no ti ho detto devo dirlo però non hai detto no no lo dico adesso è tosto è tosto è un gioco tosto perché perché non è già non è facile stare in equilibrio là sopra secondo me in più ricevi questi colpi queste pallate che arrivano con una violenza non indifferente secondo me l'unico modo è quello di correre di correre di tentare il tutto per tutto perché se aspetti lì se vai piano prima o poi la pallata che ti butta giù te la becchi ecco oppure ti porti una pistola e loro hanno la macchina quella macchina per lanciare le palle mimetizzata sì così loro non si accorgono non si accorgono da dove parte lei c'è da fare lei c'è da fare è arrivata è arrivata brava non ci crede non ci crede replay noi speriamo di vedere no no questa era meno spettacolare ma che bu bu a replay bu a replay